Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia In Bologna code per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa In A12 si segnalano code per lavori tra l'allacciamento con raccordo Lucca-Viareggio e Versilia in direzione Genova Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Buon viaggio!